Oh no, non ci voglio entrare qui. Io non so se stiamo insieme, vi prego. Oh no. Le luci. No, no, basta fare la task, devo fare la... Qua siete tutti vivi. Tu sei vivo, tu sei vivo. Dai! Ma come quando iniziano a mettersi i bastoni a vicenda? I bastoni. I bastoni. Per favore, voglio uscire da questa stanza maledetta. Aiuto. Andiamo senti. Tu cosa? Madonna, quel white che ci fissava da fuori. Oddio! Imposer! Imposer!